Come si forma il condizionale presente in inglese? Useremo l'ausiliare would più l'infinito del verbo senza il to, quindi la cosiddetta forma base. Esempio, to work, userò would e poi work. I would work, che posso contrare in I'd, you'd, he'd e così via. I'd work, you'd work, eccetera. I'd work next week, lavorerei la prossima settimana. La forma negativa, molto semplice, si attacca il not a would contraendosi in wouldn't, quindi la struttura è soggetto wouldn't più l'infinito senza tu del verbo e a seguire i complementi. I wouldn't work next week, non lavorerei la prossima settimana. L'interrogativa e l'interrogativa negativa si fanno ponendo would, nel caso della forma interrogativa semplice, o wouldn't, nel caso della forma interrogativa negativa. ponendo appunto would e wouldn't davanti al soggetto o all'infinito senza tu del verbo con complementi. Would I work for nothing? Oppure wouldn't I work enough? Alcune di queste frasi le potete ascoltarmi dai file audio presenti nelle tabelle, nelle rispettive tabelle. Le risposte brevi naturalmente si fanno utilizzando would nelle affermative, wouldn't nelle negative, ricordando sempre di usare il pronome personale anche quando nella domanda è presente un nome. Bisogna usare sempre il pronome di riferimento. Qui ci sono i cinque esercizi interattivi per la comprensione dell'argomento.